uuuu uuuu aaaah uuuu spara allora visto che abbiamo aperto tre uova non lo so cosa avete visto cosa non l'avete visto adesso apriamo il nere si si uuuu aspetta aspetta mamma mia quante cose ah uuu c'è la pistola guarda qui la pistola wow ci sono i proiettili la mini pistola oddio basta 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 come si carica sai come si carica no qua si dai vediamo se sai come si carica e io vado con la piccola non si spara in faccia uuuu aaaah io non ce l'ho fatta dai dai io non ce l'ho fatta stare così perché te sbagli la mira poi mamma aia aia sparano 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 no mamma proiettele ho venito a proiettele hai finito di sparare no no ragazzi ci manca di aprire la avengers iscrivetevi guardate altri video che qua adesso ci spariamo tutti uuuu uuuu aia 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 spara aspetta eh no anch'io sparo no si io paro la spara la spara la spara uuuu che hai fatto hai rotto tutto che hai fatto hai rotto tutto hai rotto tutto ragazzi iscrivetevi guardate altri video noi dobbiamo aggiustare tutto ciao Ragazzi continuiamo ad aprire i nostri uovissimi, hai fatto tombola, hai fatto aprire tutto l'uovo di Spider-Man, dunque abbiamo trovato il nostro Spider-Man, versione piccola, Spider-Man è in versione grande, e poi c'è una rivista, eccolo il tuo Spider-Man, wow che fa, no, vediamo la nostra rivista, wow, ci sono anche le storie, guarda un po', c'è anche il gioco, bello, guarda il Deadpool, allora questo è Deadpool, no, non è Deadpool, guarda il Deadpool, noi dobbiamo aprire anche le altre scatole, quello delle pistole sotto, questo qui, il Nerf, questo, ragazzi seguiteci per vedere cosa c'è dentro il Nerf, iscrivetevi, guardate altri video, ciao, alla prossima!